Dopo l'invito della maestra Tina De Rosa abbiamo incontrato alcuni degli alunni della terza C della scuola Martiri di Cefalonia a ritorno dalla quattro giorni di scambio in Polonia. Durante la parte finale di questo progetto europeo i ragazzi si sono confrontati con le loro coetanei attraverso attività sportive, musicali, artistiche e linguistiche. Voi siete i ragazzi della terza C della scuola Martiri di Cefalonia, siete tornati da pochissimo dalla Polonia, com'è andata? Che cos'è che vi è piaciuto di più? A me mi è piaciuto di più quando siamo andati a Breslavia, che siamo andati in città a cercare degli ignomi. A me mi è piaciuto di più lo zoo, che c'erano tantissimi animali e non ci andavo da quando era piccola. A me è piaciuto visitare la scuola con i bambini polacchi. A me mi è piaciuto visitare l'acquario perché c'erano tante specie di pesci diverse. A me è piaciuto fare il giro sul battello perché c'era un paesaggio bellissimo. A me invece è piaciuto andare allo zoo. Insomma, una bellissima gita, vi piacerebbe ripartire perché? Perché è stata un'esperienza bella, perché mi è piaciuto molto e perché abbiamo fatto nuove amicizie. Perché abbiamo conosciuto degli insegnanti e dei bambini polacchi molto gentili. E perché vorrei finire di cercare i 240 ignomi. Perché vorrei tornare allo zoo. Ma eravate mai stati all'estero? Cioè fuori dall'Italia? Io sì. Dove sei stata? In Mar Rosso. Io mai da nessuna parte. Io mai da nessuna parte. Io a Valencia che è in Spagna. E io sono stata a Mallorca che è in Spagna. Io a Creta in Grecia. C'è stato qualcosa che non è andato bene o è andato tutto bene? È andato tutto bene. È andato tutto bene, è andato tutto bene, è andato tutto bene, a parte un po' l'aereo. Tutto bene anche voi? Sì. E invece mi ha detto la vostra maestra che comunque avete assaggiato anche il cibo polacco. C'è qualcosa che vi è piaciuto in particolare? Oppure magari non vi è piaciuto perché era tanto diverso dal nostro? C'era tipo un succo di fragola. Che ti piaceva? Sì. A me è la stessa cosa. A me mi è piaciuto una specie di tortelli ripieni di formaggio. A me invece non mi è piaciuta molto la zuppa con la pasta dentro. A me non mi è piaciuto tanto i tortelli con il formaggio perché avevano un sapore strano. E poi non mi è piaciuta la zuppa. Insomma, mi avete raccontato, è stata una bella esperienza, vi siete divertiti, vorreste ritornarci. Volete dire un bel grazie tutti insieme ai vostri compagni polacchi? Vai. Francesca di Letta per Faenza Web TV. E... Il dipilio di tutelare fine.